La novità sorpresa è l'esclusione dagli undici per problemi fisici di Invernizzi. Questo sposta l'assetto della squadra con Biso che recupera e del fulcro della mediana, mentre Buccianti è ancora fuori. Lischi è preferito a Carnici, Malotti sempre dalla tribuna. Ripete la difesa a tre, parte benissimo il Marzocco con la verticalizzazione per Romanelli. Bravini, nomenomen, chiude lo specchio in uscita al numero 9 azzurro. Da parte opposta al lancio per Di Giuseppe che anticipa anche Martinuzzi. Il diagonale però non inquadra lo specchio, Serigne contrasta Candelori. Punizione quindi da buona mattonella, Biso sceglie la soluzione a foglia morta che supera però la traversa. Brivido importante poco dopo, palla al piede nuviello, si fa a metà campo, la sangio è scoperta al traversone sul secondo montante, vede Candelori pronto ad incrociare senza trovare ancora i pali difesi da Martinuzzi. Recupera quindi palla Romanelli che serve Vanni, cross sul quale in bonga non arriva la deviazione sotto misura per puri centimetri. Si ripete quindi l'inserimento da destra, Lischi chiama palla ancora però è murato. Altro pallone spedito con poca precisione al minuto 38, Regoli salta a sasso nell'uno contro uno, poi spara alto di controbalzo. Marzocco a testa bassa anche ad inizio ripresa, l'imbucata è per Vanni, stavolta il giovane centrocampista spreca il diagonale. Meglio da posizione speculare Romanelli a negargli il gol, stavolta è solo il montante. Il tutto è premiato al minuto numero 7, Lischi vede Romanelli e stavolta il suo destro gonfia la rete alle spalle di Bravini 1 a 0. La Voluntas ci mette un po' a rifarsi viva dalle parti di Martinuzzi, ecco la velenosa palla alta di Capitolo che in sforbiciata trova la deviazione sul palo da parte di Candelori. Il legno è come in precedenza al preludio alla rete, Candelori si avventa sul pallone vagante al limite con un raso terra preciso al millimetro, trova il pareggio ad un quarto d'ora dalla fine. I padroni di casa prendono fin troppo coraggio, ancora da palla inattiva ecco l'occasione per Di Giuseppe, il suo piattone a portiere battuto trova l'ennesimo palo di giornata, poi quindi l'azione sfuma e alla fine si replica dopo 4 minuti di recupero il punteggio dell'andata.